Finalmente dopo 5 anni, oggi sono iniziati i lavori di demolizione del modulo abitativo che era stato messo qua circa 10-15 anni fa, però non lo potevamo utilizzare come sede sociale perché non ci è mai stato concesso il permesso, praticamente è sempre stato utilizzato a livello di magazzino. In questi 5 anni abbiamo lavorato per poter realizzare una sede, una casetta in legno con bagno e con una stanza come ritrovo per gli ortolani. Inoltre dovremmo riuscire a costruire anche una piccola casetta come magazzino per tutta l'attrezzatura dell'associazione. Tutto questo qua è stato voluto dall'associazione grazie ai proventi che sono arrivati dal vecchio comitato che sono stati messi da parte proprio per costruire un bagno e una sala di ritrovo ed anche per il grande contributo che ci ha dato l'amministrazione attuale con l'ultimo bilancio. Eravamo partiti con l'amministrazione Pistoni, i fondi non c'erano, ci siamo stati fermi fino ad ora in poche parole. Ci siamo trovati con alcuni ostacoli, però ora sembra che tutto proceda secondo programma. Diciamo che secondo me quest'estate dovrebbe essere tutto pronto, a metà di quest'estate, almeno da quanto è stato detto, perché qua è iniziata la demolizione e a seguire dovrebbe andare avanti tutto il processo di costruzione, per cui sì, andare quest'estate. Purtroppo c'è sempre questo problema del Covid che sicuramente quando sarà pronta non potremo ancora utilizzarla, però almeno vederla realizzata sarà già un obiettivo, sarà già un buon obiettivo.